Il terrore targato Stato Islamico tiene con il fiato sospeso l'Australia. Un uomo armato è entrato in una cioccolateria nel quartiere degli affari di Martin Place a Sydney e ha preso in ostaggio circa 30 persone. Il sequestratore ha poi fatto esporre sulla vetrina del locale una bandiera nera con la scritta «Non c'è altro Dio che Allah» e «Maometto è il suo profeta», simile a quella utilizzata dagli estremisti dell'Isis. Cinque ostaggi sono scampati al sequestro, tre uomini e due donne. Non è chiaro se siano stati liberati o se siano riusciti a scappare. Secondo le testimonianze, sembra che l'uomo armato abbia piazzato due bombe all'interno della cioccolateria e altre due all'esterno. Il tempo passa e la tensione sale. I negoziatori sono in contatto con il sequestratore, che ha chiesto di poter parlare con il premier australiano Tony Abbott. Secondo la stampa, il terrorista avrebbe chiesto anche una bandiera dell'Isis in cambio della liberazione di alcuni ostaggi. Tony Abbott ha subito convocato il comitato di sicurezza. «Si tratta di un avvenimento inquietante», ha detto il premier. «Le forze dell'ordine sono ben addestrate e agiscono in maniera professionale. Le autorità stanno gestendo la situazione in maniera pacifica, ma la paura è che la crisi possa durare per molto tempo, anche fino a domani». «Si tratta di un'ordine». Grazie a tutti